Dal primo aprile l'Italia non sarà più in stato di emergenza Covid e di conseguenza decadono il CTS e la struttura del commissariato straordinario e quanto emerso nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi secondo quanto si apprende da fonti ministeriali. Al loro posto dovrebbe essere creata una unità operativa DOC al Ministero della Salute per accompagnare il periodo transitorio e completare la campagna vaccinale. L'obbligo vaccinale resterà in vigore fino a fine anno per il personale sanitario e RSA. Dal primo aprile vi ha l'obbligo di Super Green Pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. Si sarebbe stabilito di mantenere l'obbligo di presentare il certificato verde in alcuni ambiti, base o super nei diversi luoghi ancora fino al 30 aprile. Da maggio non sarà più necessario esibirlo, la capienza degli stadi tornerà al 100% dal primo aprile e per accedervi sarà richiesto il Green Pass base. L'attuale regime sull'obbligo di mascherine è previsto in tutti i luoghi al chiuso, compreso a scuola, resterà in vigore fino al 30 aprile. Dal primo di aprile non sarà più richiesto il Green Pass sui bus ed in generale sui mezzi di trasporto pubblico locale, mentre continuerà a vigere l'obbligo di indossare le mascherine. Le norme sulle mascherine infatti restano invariate fino al 30 aprile, sarebbe emerso dalla riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi.